Hanno fatto rientro a Pianella nella tarda serata di domenica. Silvio Maiano e Veronica Ambrogio, i genitori della piccola Giulia di soli 13 mesi, morta tragicamente dopo essere precipitata da un balcone di un hotel di Sharm el Sheikh, mentre si trovava proprio tra le braccia del papà. Il corpicino della piccola invece è stato trasferito in un ospedale italiano a Il Cairo e dovrebbe far rientro a Pianella tra mercoledì e velerdì. La famiglia ha chiesto di vivere il proprio dolore nella più totale riservatezza, almeno fino a quando la piccola Giulia non sarà riportata a Pianella. Stiamo cercando di stare vicino alla famiglia che ha espresso la più che comprensibile volontà di vivere questi primi giorni nell'ambito delle ristrettezze della famiglia d'origine e ringraziare tutti per le varie manifestazioni, tantissime manifestazioni di vicinanza e di affetto che in ogni modo sono giunte ma al momento chiedono di poter mantenere questa situazione di riservatezza e che non riescono proprio ad avere rapporti con l'esterno. Una tragedia che ha gettato nello sconforto più totale l'intera comunità pianellese. I Maiano infatti sono molto conosciuti in paesi per essere titolari di un'impresa di pulizie. La reazione della comunità era prevedibile. Poi si aggiunga a questo un dato di coesione sociale che la nostra cittadina da sempre esprime e che ovviamente amplifica ancora di più sia il dolore che la partecipazione. Una volta rientrata la Salma sarà allestita da Camera Ardente, prima dell'ultimo saluto nella chiesa dove circa un anno fa era stata battezzata. Questo dipende appunto dal rientro della Salma. Se dovesse rientrare entro giovedì probabilmente sarà possibile fare i funerali durante la settimana.